Una delle sfide quotidiane più complesse per ogni insegnante è individuare soluzioni e stratagemmi per motivare lo studente e renderlo protagonista attivo del suo percorso di apprendimento. Può in questo senso il gioco rappresentare un'opzione efficace? La mia esperienza di insegnante e di formatore me lo conferma e se gli elementi caratterizzanti del gioco sono la motivazione e il coinvolgimento attivo converrete con me che questi rappresentano i veri e propri motori dell'apprendimento. Il gioco permette grandi possibilità di personalizzazione e stimola piacere e divertimento. Il gioco rappresenta inoltre un'opportunità per apprendere facendo esperienza diretta in cui il coinvolgimento emotivo è molto molto significativo. Scopriremo dunque assieme come poter rendere le vostre lezioni più stimolanti ed interessanti e come riuscire a coinvolgere anche i vostri studenti più difficili e perché no proveremo anche a divertirci tra di noi.